C'è una vulgata storica che parla prevalentemente della resistenza come il periodo, i mesi dei combattimenti, del risveglio del popolo italiano contro gli occupanti tedeschi e contro i fascisti, è limitativa del discorso sulla nascita della nuova Italia democratica e repubblicana. È come se un'Italia democratica e repubblicana, così come emerge dal testo costituzionale, il cui lavoro di redazione inizia nel 1946, cioè a un anno dopo la fine della guerra, questo lavoro sembra quasi che sia stato fatto in pochi mesi. Nel mio libro invece si cerca di far capire che i valori costituzionali, l'impianto stesso della Costituzione, è il frutto di lunghissimi anni di pensiero, di elaborazione, di riflessioni, ma anche di autocritica per tutto quanto era successo nella prima guerra civile, cioè quella del 1919-1922, quando gli antifascisti sono stati sconfitti dallo squadrismo.